Giuseppe Figliomeni Sono stato contentissimo quando ho ricevuto la chiamata del direttore sensibile, c'è stato subito un certo feeling, lo ringrazio per avermi dato fiducia, come ringrazio il mister e la società per essere qui. L'obiettivo sicuramente è quello di salvarci il prima possibile perché nel calcio tutto si azzera, come tutti sappiamo non conta niente quello che è stato fatto e si riparte ogni anno, quindi avremmo il compito di portare a casa prima la salvezza e poi pensare a partita dopo partita per divertirci perché nella Serie B è importante avere l'equilibrio. Molta esperienza per te, che idea ti sei fatto di questo campionato tu che ci hai giocato per diversi anni? Sì, come dicevo prima ci vuole equilibrio in questo campionato perché in una giornata ti senti sulla luna e l'altra sempre spacciato, quindi è un campionato molto difficile dove bisogna prendere ogni partita anche con la squadra che sembra più debole il massimo impegno perché non ci si può permettere di sottoluotare niente a nessuno. Conoscevi già qualche tuo nuovo compagno? Magari ci avevi giocato insieme? Sì, ho giocato l'anno scorso insieme a Simone Farelli e poi conosco tanti ragazzi che ho incontrato in questi 6-7 anni di Serie B, quindi lo saluto in tanti e sono felice di far parte di questo gruppo. Chiudiamo con un tuo saluto ai tuoi nuovi tifosi, tifosi Granata. Sì, un saluto agli splendidi tifosi del Trapani che ho avuto modo di conoscere in questi anni. Sono felice adesso di far parte di voi e vi aspetto come ogni sabato, come voi sapete fare, in tantissimi per prenderci tutti quanti insieme delle grandi soddisfazioni. Grazie. Grazie. Grazie.